Su Domus 3D sono ora disponibili gli arredi configurabili all'interno della sezione arredi nella finestra componenti. Questi sono riconoscibili da un piccolo marker presente in basso a sinistra nell'anteprima. Possiamo distinguere due tipologie di arredi configurabili, famiglia di elementi configurabili ed elementi configurabili. Trascinando una famiglia di elementi configurabili nel progetto si aprirà la finestra di configurazione e potremo procedere nella creazione della composizione. Una volta tornati nella finestra di navigazione sarà ancora possibile modificare alcune varianti come ad esempio la finitura. Per quanto riguarda gli elementi configurabili come ad esempio i rubinetti trascinando l'elemento nel progetto questo viene inserito e posizionato correttamente. Sempre dalla finestra di navigazione sarà poi possibile configurarne la finitura.